Buongiorno a tutti, oggi vi parlerò del parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, il parco archeologico più grande d'Europa per estensione, infatti occupa un areale di circa 270 ettari. Selinunte si trova nella Sicilia sud occidentale e è stata una colonia greca fondata all'incirca 2700 anni fa. In questa immagine vediamo la Selinunte dall'alto, notiamo in particolare una linea di costa rettilinea e un'altra cosa importante da sottolineare è che l'acropoli di Selinunte sorge su un promontorio delimitato da due valli, ad Ovest abbiamo la valle del fiume Modione o anche chiamato Selino da cui prende il nome la città e ad est invece dal più piccolo gorgo cottone. Questa invece è la ricostruzione di due archeologi francesi Hulot e Fouget nel 1910 di come doveva essere la colonia di Selinunte. L'obiettivo del nostro studio è quello di ricostruire dell'evoluzione ologenica dell'area costiera di Selinunte fra 8000 e 2200 BP. Come è stato realizzato? È stato realizzato secondo una caratterizzazione geologico geomorfologica dell'area attraverso l'analisi stratigrafica di depositi fluviocostieri, datazioni assolute relative, analisi palinologiche, prospezioni geofisiche e acquisizione di immagini aeree e termiche da drone. Il progetto prevede la realizzazione di sette sondaggi, per il momento sono stati effettuati solo questi quattro ed in particolare i due in celeste sono specifici per il nostro obiettivo. Il sondaggio BH1 è quello che si trova alla foge del fiume Modione, ci mostra la presenza di un substrato marino del plestogene medio, inferiore medio, profondo all'incirca 22 metri. Abbiamo successivamente una superficie di erosione con sopra sedimenti ologenici ologenici, fino a una profondità di circa 15 metri. Successivamente abbiamo depositi, la presenza di depositi paludosi, per poi passare ai depositi colluviali. Il sondaggio BH2 mostra la stessa successione, solo che in questo caso la profondità del substrato è meno profondo, quindi arriva all'incirca 13 metri di profondità e da notare è che all'interno dei sedimenti marini abbiamo riscontrato la presenza di molluschi. Abbiamo datato i molluschi e diciamo che corrispondono più o meno ad una datazione di 6.300 anni dal presente. Quindi questo cosa ci sta a indicare? Ci sta a indicare che sicuramente fino a 6.300 anni fa in questa zona qui vi era il mare, quindi vi era una sedimentazione marina. Sicuramente questi molluschi non trovandosi al top dello strato la sedimentazione è continuata per poi passare ai depositi paludosi e quelli più continentali. Inoltre in entrambi i sondaggi abbiamo riscontrato piccole tracce di pollini, questi pollini sono attribuibili a una vegetazione di ambiente umido. Sono stati fatti inoltre i lievi geomorfologici sul territorio e una ricostruzione in ambiente cis partendo da un dem ad alta risoluzione dell'area, in particolare dell'area costiera. Queste ricostruzioni sono state fatte tenendo conto anche dell'evoluzione etrettonica dell'area che da bibliografia mostra un tasso di sollevamento di circa un millimetro l'anno. Quindi con queste informazioni abbiamo simulato un innalzamento relativo del livello del mare di circa di 3 metri che ha portato ad una ricostruzione di questo tipo. Quindi basandoci sull'attuale livello del mare e abbastando di circa 3 metri il paesaggio costiero, il mare, come vediamo, entrerebbe creando queste due insenature. Questo è in linea, quindi è paragonabile, a quello che i due archeologi francesi avevano ricostruito agli inizi del 1900. centro. Oltre a queste ricostruzioni abbiamo utilizzato anche tomografie elettriche e rilievi da drone. Per quanto riguarda le tomografie elettriche ci siamo concentrati nel tratto terminale del fiume modione con lo scopo di evidenziare la presenza di strutture antropiche sepolte, visto che è anche un'area interessata da dune. Ed effettivamente le tomografie elettriche, scusate, due elettriche hanno messo in evidenza la presenza di alcune strutture antropiche sepolte. Le stesse strutture sono state evidenziate anche a seguito di una campagna effettuata con il drone che ha coperto un areale di 500 ettari e un'elaborazione di più di 50.000 immagini. Un esempio, queste due dune che vediamo indicate con le frecce e dalle immagini termiche vediamo che c'è effettivamente la presenza di strutture sepolte. Tutto questo riportato sulla carta presentemente vista, ci fa vedere come queste strutture qui riportate con il tratteggio viola concordano con l'ipotesi dell'insenatura proprio perché si posizionerebbero ai bordi di quest'ultima. Oltre a questo ci spostiamo nella parte destra dell'immagine, questa ricostruzione concorda anche con il rinvenimento di strutture portuali agli inizi del secolo scorso, ma ancora oggi visibili e posizionate ai bordi di questa insenatura. Quindi, avendo verificato la compatibilità dei due modelli, quello archeologico e quello geomorfologico, rimane da capire la tempistica dell'evoluzione geomorfologica dell'area. Abbiamo quindi diviso questo periodo in due fasi. La prima fase che va dall'inizio dell'alogene all'abice della trasgressione frandiana, cioè al massimo avanzamento del livello del mare, che più o meno in tutta Europa è marcata in questo periodo. In questo periodo tutta l'area del Mediterraneo è caratterizzata da un clima caldo-umido e da elevate precipitazioni. Ci sono studi però che hanno evidenziato che mentre nel resto del Mediterraneo questa situazione inizia a mutare verso 4.500 anni fa, qui perdura fino a 2.500 BP. Quindi in questo periodo tutta l'area del Mediterraneo è caratterizzata da questo clima e qui abbiamo riportato come dovevano essere le insenature nelle due foci. Questa è una visione da sud verso nord delle insenature con le due differenze di profondità. Questa è una situazione molto compatibile con quella che doveva essere la città di Serenunte, cioè una città con due porti. Anche per quanto riguarda le valli fluviali, in questa prima fase abbiamo notato un aumento, quindi depositi alluvionali più estesi di quelli attuali, così come tracce di pale o meandri sia all'interno del corso del fiume Modione che nella vicina valle del Belice. Quindi probabilmente possiamo ipotizzare un tracciato meandriforme per il tratto medio terminale del fiume Modione e Belice contro quella che è la situazione attuale. Questo ad esempio è il tratto terminale del fiume Modione oggi, come vediamo un tratto molto più rettilineo anche a causa di interventi antropici ma comunque con una presenza di molta meno acqua. In questa prima fase nella quale gli storici diciamo collocano circa 2700 BP, la fondazione di Serenunte, questi fiumi erano probabilmente navigabili così come c'erano delle risorse idriche molto più grandi e consistenti, condizioni quindi favorevoli allo sviluppo di una civiltà. Infatti se diamo uno sguardo ai due bacini, quello del Modione ma soprattutto quello del Belice, vediamo che si spinge molto verso l'interno e questo favoriva quindi anche scambi scambi e comunicazioni con il resto del territorio. La seconda fase invece parte da 2500 fino a 2200 anni dal presente, periodo in cui gli storici testimoniano un declino della colonizzazione greca. in questa fase cambia completamente il clima, infatti si passa ad un clima freddo-umido caratterizzato da espansioni glaciali sulle Alpi che invece in questa zona si traduce con un clima arido-freddo, con precipitazioni scarse e concentrate e più concentrate che quindi danno un elevato trasporto solito pluviale, con conseguenti fenomeni di aggradazione lungo i corsi d'acqua e lungo le coste. Tutta questa situazione diciamo peggiorata quindi da un'elevata attività eolica e da un'attività antropica che toglieva foresta e quindi deforestava per la messa a cultura dei cereali. Questi effetti però probabilmente si sono sentiti con un forte ritardo di circa 100-150 anni che è in geomorfologia il periodo necessario all'attivazione e al completamento dei processi nel sistema avversante Fondovalle-Costa. In questo periodo quindi abbiamo una gradazione dei fenomeni di aggradazione che quindi creavano zone paludose lungo diciamo queste due insenature, come è anche diciamo rispecchiato dai due sondaggi effettuati e queste causavano oltre che la perdita di navigabilità dei fiumi anche lo sviluppo di epidemie e problemi di infertilità nella popolazione femminile. Diciamo che questo fatto è testimoniato anche da è documentato anche da un fatto storico che nel 444 a.C. in cui viene chiamato Empedocle famoso anche per le sue capacità diciamo di ingegnere che per risolvere il problema di salute pubblica raccolse l'acqua di due fiumi e la deviò in un terzo. Concludendo, l'evoluzione geomorfologica dell'area costiera di Selinunte nel periodo che va dall'ologene antico alla tardeta del ferro può essere sintetizzato in due fasi principali. Una prima fase caratterizzata quindi da un clima caldo-umido che perdura solamente in quest'area fino a circa 2700 BP, al contrario come detto precedentemente del resto diciamo delle zone del Mediterraneo che invece vede il cambiamento climatico già 4500 anni fa. Quindi questa prima fase porta condizioni favorevoli allo sviluppo di una civiltà ed una seconda fase caratterizzata invece da un clima arido freddo sicuramente fino a 2200 BP che ha portato invece fenomeni di aggrazioni di valli fluviali ed aree costiere ad un'intensa attività eolica soprattutto lungo le coste, questi due diciamo fenomeni cosa hanno fatto? Hanno formato paludi, hanno portato una perdita di efficienza dei porti e quindi allo sviluppo di malattie. Questa situazione viene aggravata anche dalla forte deforestazione di origine antropica. Grazie.